Ok, benvenuti. Ecco, siamo a una delle ultime puntate dei nostri incontri. Ho deciso da un lato di ridurre il numero di incontri, ma d'altro canto, comunque sono ormai quasi due mesi che stiamo lavorando con Godot, quindi più o meno la lunghezza dei corsi che faccio non durano mai più di questo intervallo, proprio per cercare di ricostruire l'interesse, insomma è tutto quello che ne consegue. Ricordo che c'è un compito che è quello per il 10 di marzo e il compito è un compito che fondamentalmente è quello che vi ho fatto vedere il 20 febbraio e cioè una semplice import di un oggetto o che avete fatto voi o che proviene da qualche marketplace o da qualche punto su internet che vi permetterà proprio di fare un piccolo esempio di movimento in 3D. Nel compito è sufficiente che facciate vedere che ci siano le collisioni con un kinetic body che si muove e basta, insomma, niente di particolare, più o meno esattamente come quello che ho fatto vedere. Allora adesso, stasera vi farò vedere un bel po' di suggestioni, diciamo. Eventualmente faremo ancora una puntata la settimana prossima oppure fra due settimane, adesso vediamo. Dove magari ci sarà anche Emanuele che stasera non c'è perché gli ho consentito di andare a vedere al cinema, che è vedere Capita Marvel. Sì, sì, la consegna sicuramente la ritarderemo come al solito, quindi non abbiate problemi. Nelle mie intenzioni originali volevo proprio farvi fare anche proprio un giochino, ma questo ormai è fuori. Quindi diciamo che il giochino eventualmente lo faremo se lo pensate. Faremo magari un secondo corso dove faremo proprio un Godot e un'applicazione gioco 3D proprio su Godot, quindi con un corso successivo. Per il momento facciamo che prendiamo soltanto le basi, le basi di Godot, che comunque di per sé sarebbero in teoria già sufficienti per fare questo giochino. Inoltre l'altra cosa che mi sarebbe piaciuto fare, che erano le animazioni, le saltiamo a pie pari perché le vediamo meglio dal punto di vista di Blender nel corso che inizieremo a maggio. Sapete che adesso facciamo un corso a maggio che inizierà, credo. Io ho proposto il 2 di maggio, che sarà un giovedì. Adesso comunque verificheremo, comunque io mi orienterei su questa scadenza e magari ci orienteremo sul giovedì. Ok, poi ultimissima cosa, prima di partire su quello che diciamo stasera, che ne abbiamo veramente tanto, ricordo che abbiamo chi vuole fare delle donazioni per il... Ah, dunque, Giorgio, tu il giovedì non puoi. Adesso vediamo, ma comunque cerchiamo di... Il giovedì non puoi, come mai? Perché tra l'altro qualcuno mi diceva che il mercoledì era anche impegnato perché c'erano dei corsi su Edmondo. Ah, palestra. Vabbè, ci ragioniamo un attimino sopra. Ti stavo dicendo prima, donazioni per il costo del server di Edu3D, dove siamo adesso in craft. Qualcuno di... molti di voi già le hanno già fatte. Comunque se qualcuno che non le ha ancora fatte vuole farlo, insomma, va bene. Ah, per la palestra? In realtà io cerco di andare a pranzo, proprio per evitare di avere le... le serate, diciamo, consumate dalla palestra. Quindi adesso, se ci riesco, vado a pranzo, mi faccio... fanno 45 minuti al giorno, è che sono un minimo per poter andare avanti. Allora, sentiamo, sentite. Andiamo sicuramente su internet e andiamo a prendere un link che è questo, che vi scrivo in... su Zoom. Dittemi se lo vedete. Ok, quindi provate a cliccare su questo link e ditemi se riuscite a entrare su questo link. Questo qui è un link su GitHub. Anche lì su GitHub ci bisognerebbe fare un corso per imparare a usarlo. È un sito web importantissimo, fondamentale per tutta la comunità open source. Qui sono disponibili, diciamo, l'80% di tutto il software open source mondiale. E vedete che entrando su questo link vedete che abbiamo un Salazar Godot. Godot, questi sono una serie di progetti che ho fatto e che possono essere scaricati semplicemente cliccando su Clone o Download. Adesso lo facciamo, se volete, in tempo reale. Quindi facciamo Clone o Download e scaricate il punto zip. Scaricando il punto zip vi arriva un file di 40 MB con tutti questi progetti dentro. e adesso vi farò vedere come spacchettarli. Tra l'altro vedete che a me mi è arrivato in due secondi. Voi provo che ho la rete velocina. Comunque 40 MB non sono tanti, quindi dovrebbero arrivarvi abbastanza in fretta. Quando andate su questo zip che ho già scaricato vi ho fatto vedere Godot Master 1.zip lo unzippate ovviamente lo metto in Godot Master 1.zip e qui abbiamo vabbè, qui in realtà ho fatto un'altra cartella. Quindi se l'avete unzippato vedete che ci avete tutte le cartelle che sono contenute qui nel 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 github. Ok? Allora noi adesso andremo ad aprirne un po' per volta. Quindi qui tra l'altro c'è anche una documentazione utile per gli sprite 2D o per l'animazione coniglio se vi interessa. E poi c'è un alcuni piccoli esperimenti che avevo fatto tipo questo cubo costruito con i Vertice che era un piccolo esperimento in Godot che doveva essere la base per costruire Minecraft in Godot ma a voi forse non vi interessa troppo. Comunque sappiate che l'avevo preso da un corso che avevo fatto l'anno scorso dove si insegnava a costruire Minecraft con Unity e gli stessi concetti si possono applicare ovviamente anche su Godot ma noi non faremo mai Minecraft con Godot però andiamo a vedere esempio che volevo partendo dal dal 20 febbraio vediamo il casetta albero con gestione click ecco questa casetta albero è un'estensione che ho fatto rispetto al progetto che mi ho visto insieme allora entrando dentro vedete che c'è un project punto Godot io poi qui se faccio doppio click mi parte direttamente Godot altrimenti se non mi parte come probabilmente succede a voi c'è la possibilità di dire apri con e scegliere l'applicazione quindi scegliete un'applicazione e gli scegliete praticamente andate a cercare sul vostro disco dove avete Godot e poi gli dite usa sempre questa applicazione e a quel punto lì avete il questo tra l'altro funziona anche su Mac anche se è leggermente diverso comunque mi sembra che ti registri da solo inoltre che lo lanciate quindi la cosa interessante è che vedete che qui compare l'iconcina di Godot questo mostriciatto lino blu e semplicemente facendo doppio click lui apre il progetto ok quindi ditemi se in qualche modo avete aperto il progetto anche voi aperto gli altri sono riusciti ecco chi non riuscisse ad aprirlo in questo modo basta che lanci Godot e poi apri importi il progetto nel modo usuale sapete che si può lanciando Godot sì ok Valeria anche tu siete entrati nel progetto ah ah sono solo 40 mega quella cosa lì comunque vi attendo un secondo vedete che abbiamo le nostre la nostra scena dell'altra volta ecco che fibra è Giovanna che marca perché io alla fine l'anno scorso mi sono stufato Telecom si dovete Luca Lucia ti dà un messaggio tu tra l'altro c'hai Windows no suppongo e c'hai Godot 3.1 e che messaggio di errore ti dà forse non te l'ha scaricato bene il file si prova a rifare magari non è arrivata a volte le fibre o la DSL non funziona comunque quello che dovrebbe vedersi è quello che vedete sul mio schermo comunque ok nel caso che aveste dei problemi al solito se per caso si prolungano a limite seguite direttamente il corso e poi li provate separatamente sì sì vedete cosa faccio questa operazione che faccio vedete che premio il tasso centrale del mouse anche se non e qui abbiamo la nostra scena solita ora la differenza rispetto all'altra volta è semplicemente se faccio il play di questa di questa scena vedete che qui c'ho le freccine ecco qui la differenza vedete che si muove anche la telecamera non so se la vedete che man mano che mi muovo la telecamera mi segue ora voi direte è una cosa complicata da fare la telecamera alla cosa no è una cosa banalissima semplicemente ho preso la camera l'ho messa a figlia del kinematic body in questo modo la camera risulta collegata al kinematic body che sarebbe la pallina e quindi è obbligata a seguire delle cose questa è una cosa molto molto banale quindi avete un effetto che normalmente sarebbe complicato da eseguire con altri sistemi che qua invece è decisamente semplice ora la novità che ho fatto in questo progetto è che questo progetto è sensibile al click tra l'altro vedete che qui in alto c'è un my text quindi un pannello questo pannello si chiama GUI e questo pannello è quindi se clicchiamo su GUI vedete che questo è un controllo verde tra l'altro lo sapete no che c'è un codice dei colori in Godot quindi le robe le cose che sono segnalate come rosse sono oggetti tridimensionali gli oggetti invece che erano aspettate il colore invece blu erano gli oggetti a due dimensioni e gli oggetti verdi sono i pannelli come questo che servono per fare le informazioni testuali quindi sono i pop-up le cose tra l'altro sono tipiche nei giochi 2D soprattutto ma che sono anche molto usate negli ambienti 3D ora vi sembra che avevo già fatto vedere qualcosina sulle cose allora questo qui è semplicemente un pannello un controllo un pannello e dentro ci ho messo una label e nella label al momento ci ho scritto sono andato qui vedete che c'è la label e ci ho scritto my text e quindi quello che appare quindi noi nel momento in cui andiamo a vedere questo questo gioco game che viene giocato e qui compare my text però nel momento in cui io cambio un attributo di questa label ed è il text e gli metto un'altra informazione dentro questo valore cambia tra parentesi una cosa interessante di Godot è che mentre state lanciando il game potete magari restringiamo questo così vedete che abbiamo il game qua e qui abbiamo la finestra di debug qui possiamo anche andare a cambiare il testo in tempo reale quindi dice ciao mondo e in teoria vedete che anche il gioco che è in esecuzione in quel momento viene diciamo modificato quindi potete fare delle prove per vedere come vorrebbe delle cose direttamente qui così come ad esempio anche l'albero che è posizionato in quel posto se voi lo spostate con le freccine qua vedete che si sposta anche nel gioco quindi questo è un modo anche per costruire interattivamente soprattutto per fare degli esperimenti mentre si costruisce il gioco ed è una cosa notevole di di Godot che anche Unity abbia una cosa simile ma sicuramente è più pesante cioè è molto più complessa e poi dopo comunque continua al solito nel senso che se mi muovo e se ecco vedete continua a interagire uguale ecco l'unica cosa che quando fate queste modifiche mentre siete in gioco non è detto che ve le salvi ma dovete poi salvarlo comunque alcune di queste modifiche potrebbero non essere salvate però insomma il principio permette di fare degli esperimenti in tempo reale ora la cosa notevole di questo progetto era quello che gli ho dato il nome col touch perché quando clicco sull'albero lui si accorge che ho cliccato sull'albero la parentesi lo farebbe anche se fosse in prospettiva quindi se noi ecco facciamo proprio un esperimento ora visto che l'abbiamo detto cioè se io prendo l'albero lo sposto vedete che adesso qua l'albero si sovrappone alla casa se io clicco l'albero vedete che mi dice hello tree se io clicco la casetta mi dice casetta quindi in questo caso lui è capace di capire esattamente che cosa sto toccando anche se gli oggetti sono sovrapposti quindi qui clicco l'albero hello tree qui clicco la casetta quindi lui riesce a capire cosa sto cliccando ovviamente qui si può far comparire delle cose diverse tipo una scheda dell'albero per dire questo è un albero di tipo x eccetera eccetera si possono fare anche degli indovinelli insomma si possono fare domande si possono fare un sacco di cose però è già un'interazione tipica che ad esempio si fa in open sim cioè il clic su un oggetto invece quello che è interessante è su questa pallina che il giocatore ma è solo un caso che l'abbia messo sulla pallina gli ho messo addirittura un'operazione che apre una pagina web e questo dovrebbe già farvi accendere un po' di campanelli nel senso che potete fare un gioco in cui alcune cose cliccate fanno scatenare diciamo un'interazione che è diversa dal gioco quindi se io clicco qua quello che succede è che mi pagina ecco adesso non so forse non sentite l'audio lo sentite l'audio? vabbè comunque no è perché ho fatto la condivisione sbagliata aspettate che lo rifaccio perché è bello sentire la dunque facciamo allora stop share rifaccio lo share rifaccio lo share però con l'audio che bisogna dire share computer sound che mi ero dimenticato come al solito ok quindi adesso riproviamo andiamo nel gioco abbiamo la nostra casetta col nostro albero clicchiamo su questo e questo dovreste sentire ma cosa avrebbe da dire la casa se potesse parlare e perché la sentinella ha un bue sulla lingua e chiaramente questo amplia notevolmente nel senso che a livello web qui possono comparire delle cose incredibili come esempio dei quiz già fatti dei siti web e certe cose che in realtà sarebbe stato bello dal mio punto di vista vederle direttamente dentro Godot quindi che comparisse magari una finestrella e purtroppo non lo fa però insomma direi che è comunque un punto di notevole interesse vi faccio vedere come ho fatto a fare questa cosa quindi tra l'altro voi adesso che l'avete scaricato siete riusciti anche a farlo girare anche voi sul vostro computer questa scena questo progetto sì e quindi vi funzionano dunque il filmato nel fin di sera forse l'ho fatto una cosa anche su un altro su Unity comunque andiamo a vedere adesso chiudo e andiamo a vedere il ah mi sembra che no non ci sono riuscito a fare un filmato ah no attenzione sono riuscito a fare un filmato dentro Godot sì ma non il richiamo a una pagina web sì certo e ho fatto anche un filmato su quello ma adesso qui non mi dilungo se chi lo vuole fare si fa più o meno come si farebbe con i suoni l'unico problema era che bisogna convertire il filmato e anche i suoni in formato OGG OGG o OGV addirittura OGG per i suoni e OGV per i video che sono dei formati open source mentre invece il formato MP4 e altri simili sono formati proprietari quindi non sono troppo diffusi nel mondo diciamo open source proprio perché per usarli bisogna pagare dei diritti e comunque ho visto diverse prove dove si fa vedere che l'OGG che a me sembrava un formato sfigato l'OGG OGG invece erano nettamente superiori erano nettamente superiori ai formati corrispondenti OGG per MP3 o OGG per MP4 quindi chi vuole poi fare aggiungere queste cose guardi questi video se non sono disponibili magari cerchiamo poi di pubblicarli su Facebook eccetera comunque dicevamo apriamo la finestra andiamo a vedere vedete che qui abbiamo un allora ho l'albero l'albero vedete che l'ho fatto come sottoscena quindi andando a vedere la scenda dell'albero vedete che l'albero qui è fatto con la tecnica che abbiamo visto la settimana scorsa io ho fatto la collision shape questo directional light se l'era preso lui dalla dalla cos'è collada che avevo preso e qui gli ho fatto uno script ora se guardate lo script lo script dice fondamentalmente che reagisce a un evento che ho chiamato left button quindi gli dico se premi il bottone sinistro allora deve andare a scrivere dentro la gui dentro la gui va a scrivere hello tree qui si può scrivere quello che si vuole quindi si può scrivere anche hai cliccato su sull'albero e poi non l'ho ancora provato in realtà ma su open sim ad esempio qui si può scrivere anche dei andare a capo quindi hai cliccato sull'albero complimenti e vogliamo vedere se questa cosa funziona cioè se va a capo cioè se fa due righe vabbè sì certo tu con la tecnica del con la tecnica del del pannelli puoi costruirti quello che vuoi addirittura potresti far apparire i pannellini soltanto sopra il personaggio che parla se volete lo investighiamo di fare perché questi pannelli esatto appaiono sempre ma molto spesso si fanno apparire si fanno apparire proprio sopra un oggetto no? cioè quindi non in alto ma vicino all'oggetto e possiamo farlo vediamo un attimo soltanto se questa cosa qua sta funzionando l'ha andata a capo quindi se io clicco sull'albero vedete che è andato effettivamente a capo sì parlare al tocco oppure anche parlare all'area collision e sull'area collision parleremo fra poco l'altro facciamo scusa un attimo vi muto solo così perché sento qualche piccolo disturbo allora comunque vedete che in questo modo possiamo fare parlare ogni cosa e come si diceva qualcosa si può fare in modo tale che questa cosa compaia come fumetto sopra nel punto in cui si è cliccato e tra parentesi questo modo di fare è anche più può essere diciamo più interessante cioè più più comodo che in OpenSIM dove in OpenSIM quando si clicca far apparire il fumetto sopra si può anche fare ma non è così facile quindi si preferisce o scrivere nella chat o mettere un dialogo che assomiglia a questo non so quanti di voi sanno scriptare su OpenSIM però vi assicuro che lo scripting su OpenSIM non è banale è abbastanza complicato comunque qua tutto quello che viene fatto è semplicemente una funzione allora tra l'altro tutte queste funzioni quando hanno il buonasera Maria mi senti comunque se sei arrivato adesso sappi che stiamo registrando quindi tutto quello che abbiamo fatto prima lo puoi vedere poi dopo stavo facendo vedere quella che abbiamo fatto il 20 febbraio però con i click in modo tale che quando si va sulla scena faccio una piccola ripetizione per la cosa questa è una scena in cui ho mosso semplicemente un pochino l'albero e la casetta quando si clicca quando si clicca sull'albero viene compare una scritta quando si clicca sulla casetta compare un'altra scritta e quando si clicca sul sul coso esatto hai visto il video ok sto facendo vedere brevemente questa cosa qua ora il left button event in realtà è questa funzioncina qua sopra che ho preso su internet e magari non è banalissima da scrivere però funziona nel senso che si accorge di quando quando esattamente il tasto sinistro è premuto può essere forse un pochino complicata all'inizio però inoltre che ci si condivide il gli script basta portarseli dietro almeno in questa fase analogamente se andiamo a vedere sul quindi se torniamo al al main dove nel main avevamo avevamo anche la casetta lo script della casetta è esattamente identico e dentro c'è gli ho messo uno script qua che quando si va sullo static body che rappresenta la casetta e si si clicca sul bottone sinistro anche qua si chiede al global gui di visualizzare casetta quindi questo è per la visualizzazione la gui è semplicemente c'è uno scriptino che c'è un metodo che si chiama display quindi quando voi avete detto global.gui display la gui sa che dollaro label punto test è uguale alle cose che gli volete far vedere questa sintassi non so se l'abbiamo mai spiegata comunque è una cosa abbastanza semplice dice che una volta che siamo sulla gui che è questa per accedere ai figli basta mettere dollaro e poi nome del figlio quindi qui essendo che sono lo script associato alla gui dico dollaro label quindi lui va su label e dato che label ha un attributo un valore che si chiama text nel momento in cui io gli dico dollar label punto text uguale qualcosa si può fare tutto quello che si vuole basta guardare le possibilità che ci sono in realtà qui il colore di sfondo non è dato dalla label ma è dato da questo oggetto qua questo pannello che è qua in mezzo adesso non mi ricordo dov'è comunque da qualche parte dovrebbe avere anche il colore di sfondo dai dimensioni adesso non lo trovo ma comunque poi ve lo dico se vi interessa non ancora dice dove si ancora pro direction rect se no in alternativa per vedere tutti gli attributi si possono espandere tutte le proprietà e poi qua si può cercare color se c'è però mi sembra che non ci sia qua ah probabilmente perché bisognerà metterlo in un altro modo è strano perché lo fa nero comunque lo guardo e poi ve lo faccio vedere meglio magari si mette un altro elemento per qui molto spesso si fanno delle gerarchie di oggetti per fare per fare questa cosa qua ok ecco l'altra cosa interessante che dovete non so se ve l'ho fatto vedere la volta scorsa era la l'impostazione del progetto erano i tasti premuti perché qui ve l'ho fatto vedere questo sì no ve l'ho fatto vedere che le azioni vengono sono queste e le azioni vengono associate ai tasti quindi se voi volete che adesso per dire questo questo progetto la freccia destra va a destra e la D ad esempio che o la A non vanno a destra no quindi se volete aggiungere il fatto che la diva da destra dovete andare qua nell'impostazione del progetto e andare nel UI right che è quello che c'è scritto nel Kinematic Body cioè il Kinematic Body vedete che c'ha UI left UI right UI down UI up quindi voi andate sul sulle impostazioni del progetto che vi ho detto prima e andate su UI right vedete che c'è right che sarebbe la freccia destra gli fate il più tasto e gli mettete D probabilmente è proprio D ok e te che si aggiunge la D e UI left abbiamo detto più tasto e mettiamo A ok quindi a questo punto riuscite a scegliere un tasto che è quello adesso premo la freccia destra ma se premo D faccio esattamente la stessa cosa e se premo A vado a sinistra e così via quindi queste sono le cose più importanti ok allora questo è una piccola interazione iniziale che ho fatto sulla base di quello che abbiamo visto ma andiamo avanti ho fatto vediamo qualche altro progettino una parentesi qui questo l'abbiamo visto no ah giusto per completezza questo script è quello che abbiamo visto insieme che abbiamo costruito la volta scorsa e qui era la funzione che è questa che permette di aprire una pagina web vedete che io chiamo semplicemente youtube.com faccio watch e poi gli metto il codice del video che voglio gli metto l'autoplay uguale 1 perché se no non partirebbe e quindi con e commerciale autoplay uguale 1 e questa funzione qua la faccio esattamente come sull'albero e la casetta soltanto quando l'input event corrisponde a un left button e poi qui in realtà c'è un global view display che fa vedere in cima la cosa se volete replicare questo progetto oppure partire da questo progetto potete ricopiarvelo e poi modificarlo altrimenti se doveste costruirlo da zero ricordate che c'è ancora un'altra cosina nell'impostazione del progetto che ho messo e cioè nell'autoload gli ho messo global cioè questo script global che dunque questo script global che trovate qua ecco uno script che non c'è niente dentro c'è soltanto una var GUI e serve solo per poter accedere alla GUI da tutto il resto del mondo nel senso che voi scrivete global.gui e accedete alla GUI ma questo semplicemente perché la GUI all'inizio c'è scritto che quando parte mette dentro global il proprio self vuol dire se stessa quindi questa qui è una tecnica che si usa per poter far parlare gli oggetti uno con gli altri attraverso un global non so se vi è vagamente chiaro cosa sono i global cioè il problema dei global risponde a un problema in Godot che è complicato cioè normalmente quando siete in una scena la scena può parlare soltanto con se stessa quindi io potrei da qua accedere al al tri cioè vedete questo pezzo che viene alla sinistra viene chiamato tri no? è il tri e il tri vuol dire albero perché è un albero perché vedete che è fatto da una serie di oggetti che hanno dei figli figli di figli e così via quindi un po' come sono fatte i rami degli alberi allora questo in ogni momento c'è attivo un tri e il tri rappresenta la scena corrente allora normalmente tutti i componenti di un albero cioè di una scena possono parlare fra di loro e per esempio dirsi quindi in teoria qui al posto di usare tutto questo discorso che avete visto avrei potuto sempre finire dire alla tri mio vai sotto la root cioè la radice dell'albero tra l'altro questo è un albero visto al contrario cioè la root la radice è in alto e i rami sono in basso invece nell'albero normale è il contrario però sono fatti così ecco in informatica quindi la root la radice quindi si va sulla radice poi la radice si prende lo special poi la gui la label e si potrebbe fare esattamente quello che abbiamo fatto noi qui senza bisogno di usare di global però se per caso abbiamo una scena 3D che abbia cioè un gioco un game che abbia 3-4 scene diverse allora si può passare da una scena all'altra adesso ve lo farò vedere ma come fa una scena a parlare a dire qualcosa alla scena successiva in Godot questo non sarebbe normalmente possibile a meno di non avere diciamo una lavagna un qualche cosa di condiviso fra tutte le scene non so se se questo vi torna allora se c'è un posto dove tutte le scene possono mettere delle in pratica c'è una scena che è comune a tutti e questa scena viene impostata una più scena in realtà e queste scene iniziali vengono impostate nell'autoload quindi quando io dico autoload e qui gli ho messo uno script che in realtà è uno script che viene condiviso allora a questo punto tutte chiunque tutte le scene che uso potranno potranno accedere a questo script semplicemente scrivendo global e questo permetterà di gestire dei dei punteggi fra una scena e l'altra permetto di capire quando dopo un tot di scene si è arrivata alla fine insomma del gioco e così via quindi questo questo concetto di autoload in cui metto io normalmente una cosa io per convenzione metto sempre una cosa global così global in inglese vuol dire quello nella programmazione vuol dire una roba un qualche cosa che è visibile a tutti in realtà si potrebbe chiamare in qualunque altro modo potrebbe averlo chiamato Salazar però se l'avessi chiamato Salazar non si capiva che era globale quindi questo è la cosa adesso lo vediamo adesso un po' meglio questo concetto del global in questo altro progetto che vi faccio prima vi faccio vedere un progetto intermedio quindi andiamo sul nostro continuate a sentirmi vero? ok allora abbiamo visto la casetta albero vediamo velocemente un Explore 3D Bosco Lorena Lorena ci sei no? sei collegata questo qui è un tuo una tua scena un tuo bosco low poly che se io apro io adesso qui vedete che l'ho importato e quindi ho importato un col.dae tra l'altro quando faccio queste cose in realtà in Blender perdo sempre un bel po' di tempo perché ho dovuto prendere la tua scena Blender ho dovuto unificarla tutta perché fosse un solo oggetto perché mi sembra che fossero in origine un tot di oggetti separati e poi gli ho cambiato il nome della mesh l'ho fatto diventare trattino col e poi infine questa cosa qua portandola dentro lui mi genera automaticamente la collisione cioè il trattino col nel nome della mesh vuol dire che quando poi lo prende il allora se tu non aggiungi col allora poi dopo devi poi creare la trimesh quando entri dentro 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 Godot se non fai né col né trimesh esatto allora il fatto di chiamarla col serviva per evitare di fare la trimesh allora voi vi chiederete come mai come mai si mette il col quando si potrebbe fare col trimesh il problema è che se avete una mesh molto complicata fare una collision mesh perché col sta per collision no? che segue esattamente tutta la struttura della mesh può risultare faticoso per il game quindi molte volte si crea anziché una mesh cioè anziché prendere la collisione direttamente dalla mesh fare un'altra mesh molto più semplice che descriva solo la collisione in maniera semplificata in questo modo per giochi molto complessi si fa così proprio per evitare per farlo andare più veloce per evitare affaticamente però a livello in cui siamo noi le due tecniche sono analoghe quindi in pratica tornando indietro in Blender chi fa queste cose qua crea prima il bosco ad esempio come prima e poi crea magari una collision mesh dove c'è solo i cilindri nel posto degli alberi ad esempio in modo tale che tu ti scontri solo con i tronchi degli alberi ma non con le fronde non so se vi è chiaro queste cose cioè il fatto di avere due mesh una che rappresenta la scena che vedi e l'altra che rappresenta invece la collisione nel caso degli alberi tra l'altro è anche più bella perché normalmente i rami uno non ci non fa collisione con i rami comunque proviamo ad aprire questa cosa quindi vi faccio vedere brevemente come è fatto quindi faccio doppio clic su questo mi viene aperto il il progetto come vedete il progetto è sostanzialmente composto da da questo bellissimo boschetto col cappuccetto rosso se non va dal lato anche qui c'è il bosco l'arena che è stato importato poi c'è una ci avevo messo forse una cosa di collisione ah no l'avevo messo lui qui c'è forse una collisione forse una duplicazione però la cosa fondamentale il boschetto è la gente la gente sarebbe questa biglia questa cosa che vedete no che si muove e poi ci sono c'è la camera che segue il che segue il mio player e poi ci sono due luci ho messo due luci una l'ho messa qua omni light non ricordo in che direzione sta puntando queste luci servono per l'ho messa per illuminare perché se no venivano troppe ombre quindi bisogna mettere le luci e poi orchestrarle in modo tale da averle da avere poi tutto illuminato dove era e poi ho fatto lo script e lo script in questo caso è molto molto simile a quella che mi ha visto prima con una differenza vediamo se riuscite a capire c'è un paio di differenze però la differenza più importante dovrebbe balzarvi agli occhi c'è qualcuno che riesce a vedere praticamente la funzione del movimento è questa qui abbiamo visto che abbiamo le funzioni che fanno andare nelle più o meno tre dimensioni cioè che sono praticamente sinistra destra up e down fa andare in realtà nella x lontano e vicino e poi c'è uno ui space che fa fare un salto che usa la y anche sapete che è quella che va verso l'alto ma c'è una cosa importante che è questo y che comunque a ogni interazione viene ridotta di 0.1 questo qui è una specie di gravità quindi praticamente si si cioè se non si fa niente l'oggetto cade e basta più o meno questo è tutto quello che succede se noi andiamo a fare il play di questa scena vedete che intanto c'è già uno slide e lo slide è dovuto al fatto che non è perfettamente piana quindi vedete che si muove però se io metto freccia destra vedete che mi muovo e con lo spazio mi sollevo se però lascio lo spazio cado per effetto della gravità e questo credo che sia stata una delle prime cose che avevo fatto vedere dall'inizio e vedete che questo sta collidendo tranquillamente e posso andare a sedermi mettermi sulla pianta ok allora il ruotare allora il ruotare ma vi piace il boschetto? eh sì ma infatti secondo me la cosa bella è integrare e integrare tutte le esperienze che state imparando no? in modo da vedere come si possa come si possa insomma costruire su tutto ciò che è stato fatto questo vi aiuto a costruire sulle vostre cose ci state bravissime tra l'altro questi boschetti che avete fatto sono meravigliosi per ruotare la cosa prima di farvi vedere come ruotare andiamo a vedere invece una scena che ho dato a abbandoniamo andiamo sempre nel nostri nel Godo Master e andiamo a vedere quello che è il Hopping Cut ecco il Hopping Cut è un è un qualche cosa in cui c'è finalmente il movimento della rotazione della telecamera adesso vedremo brevemente come funziona in realtà non dovete studiare tutto lo script vi farò vedere che è possibile rubare un pezzo di questo script per ottenere quello che in realtà ha già fatto Gianfranco quindi il quindi apriamo questo progetto qua che ho chiamato Hopping Cut nel senso che abbiamo visto quanti di voi l'hanno già visto questo progetto? a parte Gianfranco che l'ha usato vedete che questo qui è un progetto adesso qui vedete che ho messo ho dipinto delle ho fatto delle pedane e poi da Blender ho preso ecco da Blender ho preso dei prodotti open source e cioè delle monettine tra l'altro vedete queste monettine secondo voi quanti vertici ha questa monettina? faccio una domanda a tranello diverticene a pochissimi però non so se notate no in realtà è low il disconcetto è che si può fare anche low poly ma che appaia molto sofisticato perché se a un low poly si mettono delle texture che vengono chiamate normal map non so quanti di voi hanno mai studiato o visto le normal map le mappe normali cosiddette allora le mappe normali permettono di fare questo tipo di effetti vedete questo effetto è molto sofisticato in cui si vede la monettina sì questa funziona anche in affidetto vedete che questa monettina sembra che abbia tutto la zigrinatura laterale e sembra che sia tutta incisa quindi se dovesse proprio fare questa cosa qua in blender verrebbero moltissimi vertici mentre invece è soltanto una texture che viene associata e questo qui è l'ideale per fare delle cose che abbiano una rientranza molto marginale comunque questa è una cosa di blender quindi lo vediamo con blender qui non è importante la cosa che interessa a noi qua è che abbiamo un gattino che ho preso anche questo da un altro progetto in realtà che ho trovato su internet ho messo credo l'ho anche pubblicato da dove l'ho preso su Google Classroom qui abbiamo messo una prima di un giocatore adesso vi faccio vedere come si gioca ecco si gioca tra virgolette ho fatto il video quindi l'avete visto ma lo vediamo brevemente ecco però ho fatto una modifica visto che qualcuno mi l'ha chiesto ho messo anche uno sky non so se lo vedete lo sky qua uno sky che funziona come diceva Gianfranco più o meno come in come in high fidelity ma anche diciamo high fidelity per il momento questo qui è un'immagine adesso vi farò vedere quindi vedete che in questo caso vedete che se premo W vado avanti S vado indietro quindi è cosa tipica dei giochi vedete che ho messo anche l'ombra l'ombra non è automatica mi sembra che bisogna impostarla e poi anche in questa pedana gli ho messo una piccola normal map che qui si nota un po' di meno ma comunque c'è e allora l'oggetto di questo giochino è semplicemente con saltando mi muovo e poi quando arrivo sulla monettina la mangio no? il solito discorso che abbiamo visto nel 2D quindi questa è una specie di implementazione 3D del giochino del coniglietto quindi vado qui e se notate in alto a sinistra mi dice quante monettine ho mangiato quindi mi muovo tac faccio il salto mangio la monettina sono a quota 3 quando arrivo a quota 4 mi dice hai vinto e il gioco finisce sì sì mi muovo esattamente stile Minecraft e vi faccio notare anche una cosa notevole e cioè che se io punto un oggetto e poi con la rotellina posso avvicinarmi quindi posso praticamente navigare per vedere dei dettagli l'unica cosa che più così come è fatto adesso più lontano si va e più è difficile insomma pilotarlo bisogna fare uno script un pochino più più sofisticato ma il senso è già notevole e si si può anche allontanare quindi mi allontano quindi si può anche praticamente giocare con il gattino in lontananza quindi questo è il questo è il questo è il quindi questo qui avete notato che è l'interpretazione 3D di quello che abbiamo già visto e muovendo il mouse appunto come chiedeva qualcuno quindi mi muovo quindi se muovo il mouse verso sinistra ruoto se muovo il mouse verso destra ruoto nelle direzioni opposte si vede meglio magari da vicino ecco quindi quindi faccio esattamente come in Minecraft questa modalità di movimento ovviamente è schettabile ma diciamo che potete anche ereditarlo visto che Gianfranco ciao Annalisa grazie di fatto l'ha ereditata adesso andiamo a vedere un pochino nel dettaglio come funziona quindi qui ho fatto un mondo in cui ho inserito delle dei vari pezzetti quindi ho fatto una pedana ecco la pedana le si possono fare anche senza blender nel senso che se voi aprite la pedana vedete che è semplicemente uno static body dove no aspettate la pedana che è questa è una mesh instance e nella geometria di questa non posso se ce la faccio ah no nella mesh gli ho costruito un un cubo che poi ho schiacciato quindi queste pedane le ho fatte tutte indirettamente in Godot quindi se volete possiamo provarne a fare un'altra di queste pedane tanto per vedere come funziona quindi posso fare da qua da lì faccio più e faccio mesh mesh instance vedete che qui la mesh è vuota vedete che è una mesh vuota e poi da qua gli dico infatti qui dice mesh vuoto clicco su vuoto e faccio new direi se c'è il cubo quindi e faccio un cubo vedete che posso creare degli oggetti anche senza usare blender e poi vado a rimpicciolirlo allargarlo nelle direzioni che voglio e quindi ottenere la mia un'altra pedanina questa pedanina qua gli posso dare un colore quindi posso cliccare sul material che adesso è vuoto e posso creare un materiale oppure aspettate comunque il materiale e poi sul materiale qui gli metto l'albido e quindi posso mettere la texture con cui voglio caricarla faccio carica e poi posso andarmi a prendere un'immagine che ho adesso non mi ricordo dove l'ho messa forse sotto art vedete che qui ci sono queste varie c'è questa texture qua ad esempio e vedete che ho fatto la la pedanina allora questa pedanina per fare in modo tale che risponda alle collisioni devo aggiungerci questa qui questa mesh instance devo aggiungerci anche la sua collisione la sua collisione la posso mettere o facendo un ma forse potrebbe essere anche sufficiente creare un corpo statico convesso che mi sembra che sia già è un po' togliamo questo vediamo un po' se funziona per provarla facciamo un play quindi andiamo dov'è che è questa pedanina ah è quella là quindi se faccio saltiamo eh sì ci cammino sopra il fatto che ci cammino sopra vuol dire che funziona come vi sembra creare una pedana in 3D avete capito come ho fatto? sì dovete anche voi giocarci un pochino per vedere se potete costruire delle pedane piuttosto che non delle delle altre cose e poi qui in realtà ci avevo messo vedete che è un po' diverso dalle altre ci avevo messo qualche altra cosa cioè gli avevo messo una normal map e poi gli si può dire no in realtà ha testurizzato tutti i lati solo che la testurizzazione che ha fatto ovviamente facendo così la UV map non la potete fare molto la testurizzazione di lato ha fatto quello che ha potuto cioè ha messo ha schiacciato l'immagine però in realtà l'ha messo dopo e tutto per cose così semplici come questa va benissimo tanto qui potreste anche farlo per mettere dei quadri basta che abbiate nelle vostre cartelle un quadro e lui ve lo fa quindi non dovrebbe essere esageratamente diverso invece vediamo gli altri trucchi che abbiamo fatto qua allora la moneta la moneta abbiamo visto che la moneta è una scena quindi in realtà io ho fatto una sola qui vedete quattro monete ma come abbiamo visto nel 2D le monete in realtà è una sola infatti io ho fatto una scena di moneta e poi l'ho istanziata con questo simbolo e quindi qui sulla moneta se voi andate nella sottoscena vedete che questa è la moneta originale io qui ci ho aggiunto un animation un animation player che sarebbe credo questo vediamo un po' per farla girare forse era questo che la fa girare infatti era questo gli ho messo un animation player qua che fa girare la monetina e questo qui vedete che man mano che gli faccio girare la cosa lui che gli faccia spostare l'animation player lui gira la monetina quindi questo è responsabile dell'animazione ora sull'animazione io avrei voluto fare farvi fare anche da da Emanuele un po' di cose allora queste animazioni le ho fatte tutte in godò questa della monetina però potevano essere fatte anche in render e qui ho semplicemente linkato alla rotation degree cioè quindi la moneta che è questa c'ha tra le sue varie cose una transform e c'è una rotation degrees questa quindi vedete che quando sono sull'animazione qui compare la chiavetta e qui c'è tutto un un meccanismo per cui io ho messo ho girato a mano gli ho messo un gradi di rotazione della moneta nei vari momenti e poi gli ho marcato quello ma adesso non riesco a spiegarvelo tutto il meccanismo dell'animazione però non è complicato basta è molto simile a quello che si fa in Blender però forse è meglio farlo dopo che avete visto Blender però la cosa è importantissima che gli abbiamo messo una uno script sulla moneta e sulla moneta gli abbiamo messo una funzione on area body in realtà siamo andati abbiamo costruito gli ho messo proprio questa area questa area ha una collision shape che gliel'ho fatta proprio se avete l'ho messa non visibile ma se la metto visibile vedete che c'è esattamente segue la stessa vedete questi fili questa filigrana blu questa è la collision shape se io lo faccio vedere così va via quindi quest'area c'è questa collision shape quindi quest'area è in grado di reagire quando un oggetto entra nella collision shape e qui era solo per rispondere invece a un'osservazione che aveva fatto Gianfranco che le aree in teoria sono attraversabili non fanno collisione perché il significato delle aree non è tanto quello di essere degli oggetti con cui diciamo farsi male ma sono delle aree che quando io entro nell'area succede qualcosa un po' come anche in iFidelity dove si entrano in queste aree e quando si entra cambia qualche cosa allora quindi l'effetto è quello di essere sensibile al fatto che entri un corpo e infatti se io clicco su questo messaggino qua mi fa vedere che ci sono i segnali attaccati e c'è il body entered io a suo tempo avevo semplicemente aperto l'area ero andato qua sui nodi ho visto che c'era body entered e non c'era niente sotto avevo cliccato questo e lui mi aveva detto ok body entered ma dove lo mettiamo lo script e lo script l'avevo messo sulla moneta ho fatto doppio click e lui mi ha generato automaticamente questo script che però poteva anche scrivere a mano però così è più immediato quindi qui dice semplicemente che quando entra un corpo dentro la moneta allora devo fare q free q free vuol dire buttare via la scena q è la corda associata a questa moneta e poi c'è il il fatto di dire vedete che qui ecco questo gettri col gruppo gui score è un meccanismo simile a globals che serviva solo per tenere il punteggio complessivo adesso qui non ho tempo di entrare in dettaglio ultimo sul sul punteggio ma è simile a quello che abbiamo visto prima di là no sull'altro sull'altra cosa quindi una volta fatto una moneta col suo script ho semplicemente replicato n volte queste monete quando quando vengono toccate vanno via spariscono e poi però alla gui gli stanno dicendo qualcosa cioè gli stanno dicendo di score gli hanno detto aumenta il punteggio score e qui ho solo messo che finché il punteggio rimane minore di 4 si limita a cambiare soltanto il testo invece quando diventa maggiore uguale 4 prende un altro label e dice hai vinto e poi qui fa un timer start che permette di far sparire poi la scritta dopo un tot di secondi questo qui è un timer che io ho impostato a 2 secondi quando questo timer finisce faccio andare via tutto quindi faccio andare via la scena quindi super giù questo giochino è semplicemente una successione di pedane e soprattutto tutta l'intelligenza è nascosta nella moneta che sa come farsi prendere e poi c'è l'intelligenza nel giocatore dove c'è questa questo script che è un pochino più lungo rispetto a quello che sappiamo fare noi che però possiamo possiamo prendere copiare eventualmente in altri in altri in altri giochi la famosa spiaggia ricordate che abbiamo visto che c'è la spiaggia un cielo che è un cielo questo cielo è una cosa che noi abbiamo messo nelle caratteristiche della camera la camera è messa agganciata al giocatore quindi se andiamo nella scena del giocatore vedete che qui c'è la camera e una delle caratteristiche della camera è l'environment quindi qui dentro l'environment gli ho creato un environment gli ho fatto uno sky gli ho fatto un panorama e dentro il panorama gli ho messo questa immagine che è un'immagine a 360 gradi quindi praticamente ho creato eventualmente non è banalissimo da mettere questa cosa qua però se voi ripartiamo dalla situazione in cui non c'è nulla quindi qua vedete che ho tolto vedete che gli ho messo non c'è più il cielo attorno no? mi sentite? continuate a sentirmi? sì ok quindi sono partito da zero infatti vedete che mancando il cielo oltretutto manca anche l'illuminazione effetto dal cielo quindi torniamo però sono puntato sulla camera del gatto la camera del gatto ha un environment anzi torniamo proprio un environment vuoto ah se gli mettiamo proprio l'environment vuoto mi sa che venga quello di default e vedete che è quello blu questo qui dove c'è anche il sole da qualche parte che brilla dal sud non lo vedo più comunque c'è anche il sole in realtà se voglio che quando guardo troppo sulla telecamera si veda un cielo diverso devo creare un creare un new environment quindi mi crea un environment e nel background di questo nuovo environment anziché clear color che abbiamo visto che veniva un colore grigetto gli metto uno sky quindi qui sono andato sul mode quindi environment background mode faccio uno sky nello sky che adesso è vuoto gli creo un panorama sky e poi nel panorama sky che adesso è vuoto gli vado a caricare l'immagine che ho tirato in qualche modo quindi faccio carica andiamo qui sotto sky ho messo questa immagine la metto e lui la carica quindi se faccio il play di questo riesco a ottenere a riottenere avete l'immagine sottofondo l'immagine scusate la mia dislessia ma non so se sia proprio l'equirettangola però l'ho presa io ho cercato 360 spherical image foto e quindi sono immagini di questo genere qua che sono non queste qua ma sono tipo questo genere qua che però credo che siano forse sono anche l'equirettangola adesso purtroppo anche loro usano delle delle quindi se noi cerchiamo equirettangola vediamo un po' se sono ma secondo me dovrebbero funzionare l'equirettangola però fate una prova anche voi se voi avete voglia questa direi che sì sì adesso è l'oro quindi se voi avete un sito che vi da delle immagini equirettangolari queste dovrebbero funzionare potete fare una prova ok allora questo è diciamo la suggestione fatta per il giochino del gatto tra l'altro ce lo dovreste avere quindi non so se siete riusciti a lanciarlo anche voi il giochino del gatto sul vostro computer mi confermate che qualcuno è riuscito a farlo ah il gbprof lui ha fatto ben di più l'ultima adesso siamo un pochino in siamo un pochino fuori tempo quindi se volete vi faccio vedere anche l'altra cosa ma volevo chiedere avevo detto che terminavamo il corso però qui c'è veramente tante cosette quindi magari vi faccio vedere brevemente l'altro e magari ci rientriamo ci rientriamo dopo comunque il cambio di scena ve lo faccio vedere brevemente e poi lo vediamo meglio la settimana prossima voi ci sarete la prossima settimana? Sì? Ok quindi andiamo avanti ancora direi proprio sul cambio di scena sulla GUI queste cose qua comunque vediamo usciamo da questo e vediamo il cambio scena allora cambio scena Project Godot ecco vedete che qui io ho fatto anche qui ho diviso tutto in cartelle quindi ho fatto una cartella con gli script una cartella con le scene livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 e poi qui ho messo come prefab ho messo il gatto in modo tale da non dovremmo inventare tutte le volte quindi sotto prefab ho messo tutto il gatto che è esattamente lo stesso gatto che abbiamo visto dall'altra parte proprio copiato la cartella cioè quindi se voi andate dentro cambio scena sotto prefab io ho messo questo cioè questo gatto punto tscn che in realtà punta a questo gatto e quindi tutte le volte che se voi vi ricopiate effettivamente questa struttura dovreste riuscire a ottenere un gatto in movimento magari farò un piccolo video per far vedere come si copiano gli elementi da un progetto all'altro comunque nel cambio di scena ho fatto un livello uno che è fatto dove dentro ci ho messo il piano di base tutte queste cose qua senza blendere tranne il gatto che è fatto in blender ma tutto il resto è fatto tutto con Godot quindi tra l'altro ho fatto anche proprio male vedete che ho messo dei cilindri buttati lì cioè ho fatto un piano dei cilindri buttati lì delle colonne e poi ho messo in ogni scena ho messo un oggetto che ho chiamato target quindi il livello uno vedete che ha più o meno le stesse cose quindi praticamente ho copiato i vari livelli uno sull'altro ho preso il livello due che è questo vedete che ho semplicemente mosso le colonne in modo tale da farle apparire una specie di scena diversa il livello tre ho mosso ancora in un altro modo il livello quattro invece ho messo finito e questo qui l'ho fatto semplicemente con un pannello e una label quindi quello che succede è che a ogni livello il gatto si può muovere e se il gatto arriva in collisione con questa area che è quella della sfera succede qualche cosa che gli fa cambiare scena appunto che gli fa andare a un livello successivo tutto questo l'ho fatto con un global ovviamente perché essendo scene diverse è obbligatorio usare i globals ho usato in questa scena del target gli ho messo un area che era quella che abbiamo visto per le monete e poi gli ho messo un vedete questa immagine un segnale quindi cliccando su questo segnale gli ho messo un on area body entered quindi se arriva un body dentro quest'area allora deve far scatenare uno script che è contenuto qua dentro e quello che fa lo script quando arriva è semplicemente di nel global gli ho messo semplicemente il numero di livello il livello l'incremento di 1 e poi gli ho messo una funzioncina goto scene che se faccio contro posso andarla goto scene cosa fa carica la scena successiva semplicemente dato il nome della scena va a prendersi sotto res vedete che qua tutte le scene hanno un indirizzo che si chiama res due punti barra barra e poi scene e poi livello 1 2 3 4 quindi res scene poi il nome è quello che lui mi dice di caricare e quindi cambio di livello vediamo un po' come funziona quindi faccio il play di questo qui ho il gatto il gatto intanto qui purtroppo probabilmente è più che entro in collisione subito non riesce a saltare quindi il gatto terra a terra però con W posso farlo muovere e vedete che fa collisione con tutti gli altri static body lui è un kinetic body le colonne sono dei static body però quando va in collisione con la sfera vedete che cambia livello tu hai provato a fare perché mi dicevi Gianfranco che tu hai provato questa cosa e non ti funzionava andiamo premendo semplicemente con il mouse e girando ma io l'ho provato anche su no la scena è finita ma subito senza muoverti qui finito lo dà darsi che ci sia qualche che faccia una collisione subito col target non so questo l'ho creato da nulla magari adesso stasera no che sono un po' stanco ma possiamo sentirci una volta lo vediamo insieme comunque ditemi anche voi altri se riuscite poi a far girare questo giochino se a voi vi fa come a Gianfranco che vi fa questo effetto di andare subito al finito oppure se dovete passare attraverso tutte le scene ma l'idea di questa cosa qua è che in teoria potrebbe essere sfruttata per fare quello che vorrebbe fare Gianfranco e cioè fare una una città dove ad un certo punto entrando dentro una porta si entra si entra dentro un ambiente diverso questo permetterebbe di evitare di fare delle scene troppo pesanti che ci impiegano ah forse sì sai tu hai premuto il play o hai premuto questo testo qua perché devi partire proprio da livello uno prova un attimo questa cosa che in effetti stavo dicendo Maria cioè se tu abbi cura di partire da livello uno e eventualmente cioè se tu clicchi questo parti dalla scena che hai inquadrato se parti questo parti dalla scena generale principale se io gli dico di partire dal livello 4 e gli faccio questo dunque è partito dal livello 4 livello 4 che però è un 2D quindi questo qui è livello 4 ecco finito vedi che D fa questo prova a verificare nel caso prova a metterli direttamente livello 1 e di dirgli di partire da questo non so se qui c'è la possibilità di lanciarlo da qua no devi cliccarlo qua e poi lanci da qua oppure ancora potete cliccare anche questo esegui una scena e vi fa vedere tutte le scene e voi potete dire di partire dal livello 1 a questo punto siete sicuri che parte dal livello che gli avete detto sembra stranino comunque proviamo a vedere qua insieme se riusciamo tra parentesi il gatto che si muove così è un'animazione vedete che c'è un'animazione quando è fermo che muove la testina e la coda ma poi una volta che hai selezionato proviamo a verificare tu hai fatto doppio clic su livello 1 e poi una volta che l'hai visualizzato quindi ce l'hai in vista questa cosa qua hai cliccato in alto il quarto elemento qua oppure addirittura questo comunque stavo dicendo per finirla allora l'animazione del gatto da fermo vedete che muove la testina muove la cordina eccetera sì ma di play c'è no Lucia a te però ha funzionato col simbolo play vero col triangolino a nessuno a nessuno vi funziona la domanda a tutti voi vi fa vedere finito senza fare niente cerchiamo cerchiamo di capire perché per poter per poter dare finito dovrebbe essere nel livello 4 dove si è scritto finito quindi a meno che non abbiate il globals però il globals all'inizio parte con livello 1 quindi dovrebbe comunque avanzare il progetto avevo dato l'indirizzo prima ed è questo che ti ridò forse tu sei arrivato a ritardo è su github comunque la posso poi mettere anche su 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 classroom e poi se effettivamente a nessuno di voi gli funziona ora c'è qualche cosa di endemico che però mi piacerebbe capirlo quindi l'analizzare gli faccio provare domani anche da qualche mio collega al lavoro allora sentite sono le 11 quindi comincio ad essere un pochino tardi questa cosa qua dei livelli la magari la approfondiamo la settimana prossima ancora comunque direi che se se avete se quello che abbiamo visto stasera vi ha dato qualche utile spunto per fare qualche prova semplice e interessante continuiamo facciamo ancora una forse almeno un incontro per cercare di di toglierci questi dubbi e soprattutto per imparare appunto come riciclare un po' meglio insomma queste cose allora io per stasera non c'è uno script a livello 1 ma non è che siano degli script a livello 1 tu dove si trova una scena a livello 1 questa è la scena a livello 1 dove c'è il piano colonna colonna che vedi in 3D che è questa la vedi? prima di lanciarla sei posizionata hai una la vedi così? beh ma in teoria dovremmo stare aprendo la stessa cosa quindi se tu vedi questa cosa qua con livello 1 livello 1 questo e poi in teoria dovresti premere questa questo chuck e il chuck dovrebbe far scattare la scena che stai vedendo vabbè cerchiamo poi magari adesso vediamo con qualcuno l'esercizio da consegnare e quello del 20 febbraio in pratica cioè quello di un tipo quello se volete quello che ho fatto appunto col tuo boschetto ti ricordi che ho fatto vedere prima in cui c'è semplicemente la la capsula che si muove e il quindi è una cosa che credo che ce l'avete ce l'avete già praticamente qua la cosa interessante sarebbe farla con un qualche cosa già di vostro se sapete farlo per aggiungere la rotazione dovrete aggiungere questo gattino questo gattino che adesso nei prossimi giorni vi spiegheremo meglio vi spiegherò meglio come integrarlo in una in una struttura qualunque ok allora per stasera io vi interrompo grazie per essere venuti e ci vediamo mercoledì prossimo e comunque magari anche su 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 facebook eccetera grazie a tutti